Bentornati su MyFootballJersey. Vi mostro la maglia della squadra campione del mondo, quindi dell'Argentina, per la prossima stagione, quella 2024-2025, che verrà utilizzata in Copa America. Questa è in edizione Player. La squadra campione della squadra campione della squadra campione. Vi ricordo che l'edizione Player è quella più tecnica, più sfiancata, con materiali più traspiranti, pensata e utilizzata dai calciatori. Questa maglia l'avevo già vista, trovate qui in alto la recensione. Devo dire che, non so se ho fatto l'occhio o non so perché questa è la versione definitiva, mi piace di più. Ditemi nei commenti cosa ne pensate. Il costo l'avete visto molto basso, tempi di spedizione super buoni. Prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al canale e di dirmi nei commenti cosa ne pensate. Per oggi è tutto, alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao!